Francesca Dotto La Reier Adesso va in penetrazione Con Penna Poi per Dotto In penetrazione a sinistra Altri due punti Schiodata In questa seconda metà di partita Trimbole in penetrazione Bagnara Gioco a due con Ruzzicco E la palla arriva Sportellate Mandac Non riesce a realizzare la tripla A sparacchiare dall'arcovida Non trova però il fondo della retina Melchiori dall'altra parte Direi positiva La prestazione di Nicola Di Pino Ora un'altra In carriera Mandac Che ha 16 Vuole passare al sottocanestro Per Sandri E poi la riva Carangelo Sola da tre punti Siamo Nel garbage time Come si suol dire Ormai Agli sgoccioli Di questa partita La prestazione di Nicola Di Pino 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 La prestazione di Nicola Di Pino